La Proloco e l'assessorato al turismo, spettacolo e tradizioni popolari di Sinai organizzano la sfilata di carnevale aperta alla partecipazione di carri, maschere singole di gruppo, locali e di altri paesi. Sabato 17 febbraio, raduno e partenza alle ore 15 da Piazza Funtanalada ed arrivo in Piazza Sant'Isidoro. Verranno premiati carri, le migliori maschere singole di gruppo, iscrizioni gratuite, modulo di partecipazione scaricabile dall'albo pretorio del comune di Sinai. Grazie a tutti.